Ciao a tutti, sono Marti Michiretto del Fighting Club Valle d'Aosta e sono qui per proporvi alcune tecniche di combattimento. La tecnica che vi mostro oggi è semplice ma molto efficace. La combinazione è diretto avanzato, low kick e gamba posteriore. In questo caso mi trovo in guardia specchio ma la tecnica risulta comunque molto valida anche in guardia normale. Direto avanzato, low kick e gamba posteriore. Due piccoli appunti, segniamo bene il diretto avanzato e quando torniamo portiamo un low kick ricordandoci sempre di girare 180 gradi il piede d'appoggio e di impattare con la tibia. Vediamo la tecnica unita. Vediamola nell'altra guardia. Adesso la vediamo applicata nel combattimento. Ringrazio tutti per la visione, visitate la nostra pagina Facebook e il nostro sito internet www.fightingclub.org Grazie per la visione.